Bene amici, eccolo qua il Pocophone F2 Pro Finalmente nel 2020 e forse il primo telefono con specifiche top ad essere full screen Sì, con la camera pop-up Una soluzione che a me è sempre piaciuta Comincio prima, specifiche al top, velocità al top Un bel telefono, un bel mattoncino Ma vi sto già facendo una recensione Qual è il purtroppo? No, non tanto in display che è a solo 60Hz Ma col Super AMOLED va comunque a colmare il gap È un bel display La fotocamera Probabilmente quando i produttori vogliono mettere sul mercato un telefono molto veloce Con specifiche al top a livello hardware Cosa fanno? Vanno un po' a risparmiare sui moduli della cam Magari non mettono la ricarica wireless E non certificano per l'impermalità Però lui costa 599€ Forse 499€ in offerte in questi giorni Quindi a questa cifra non ve lo dico Lo dico alla fine Andiamo a scoprirlo insieme Ed ecco la confezione Devo dire mi piace la scatola Proprio i colori Il packaging invece non mi fa impazzire la cover Che non è una coverina ma è una coverona Perché è in plastica Non è in silicone È abbastanza rigidina e spessa Ma dopo andiamo a vedere il telefono Carica batterie 30W Va a caricare la batteria da 23,5Wh in un'ora 100% Il 50% però ve lo dà in 25 minuti Quindi una ricarica molto veloce E poi il cavo dati Carica batteria che non esce con la tipo C Ma con la USB standard Andiamo a vedere il telefono Finiture Avrei voluto provare quello viola Perché aveva una finitura posteriore molto bella È in vetro Qui abbiamo le 4 fotocamere Ahimè rispetto a quello che vi ho detto nell'unboxing Devo fare un'errata corrige Nel senso che c'è la 64MP principale f1.9 C'è la 5MP macro che funziona anche bene La 2 inutile depth Ma la terza purtroppo non è zoom Ma è la super wide Io pensavo che al posto della macro ci fosse proprio la zoom 2x In realtà no è una macro Qua il flash led Bello il tasto accensione e spegnimento rosso Un vezzo E poi i tasti per il volume qua sopra Il mono purtroppo l'audio Quindi un solito parlante sotto Tipo C dalla quale non esce il video E qua lo slot per mettere due nano sim Non c'è l'espansione di memoria Qua sopra attenzione Camera pop up Che mi sembra l'avesse anche il Mi 9T Vedete quel cerchiettino azzurro È un led di notifica Quando arriva le notifiche si illumina E quindi lo vedete C'è ovviamente anche l'always on display Che fa arrivare comunque le notifiche Le vedete qua sotto Non sono interattive Poi c'è il jack per le cuffie Che bello E il secondo microfono Da questa parte Davanti Beh full borderless No più che full borderless Che vuol dire senza bordi Senza il foro per la fotocamera Singola doppia Tra l'altro bordi vedete Quasi simmetrici Sotto il mento È solo un filino più grande Rispetto alle parti laterali Mi piace Sopra l'altoparlante È vero Cioè c'è il taglio Vedete lì per la Per la capsula È un padellone 8,9 mm Spessore Ma soprattutto il peso 219 grammi Si sentono Devo dire che non è un telefono Che scivola particolarmente Ma è un telefono Che si sente in mano Ma vi parlo della Diciamo partiamo subito Dal sistema operativo Perché qua c'è una differenza Rispetto agli Xiaomi Infatti lui si chiama poco E non è uno Xiaomi Comunque basato su Android 10 MIUI globale Vedete Page di sicurezza A aprile del 2020 128 GB di memoria Integrata Non è espandibile Dicevo prima 6 GB di RAM Ok Ok l'NFC C'è il Wi-Fi 6 Molto veloce Avete visto prima 5G però solo tre bande Ok Android Auto Tra l'altro l'ho provato Sulla mia 500 Con il nuovo impianto Super Smart Ultimo step Che vi farò vedere E anche il GPS È ok Ma prima di far vedere L'interfaccia poco Vi parlo di autonomia E vi faccio vedere Ma vi faccio vedere live Perché sono le 22 e 11 Oggi è stata una giornata Veramente super stress Più stress Del solito E allora andiamo qua Batteria e prestazioni Statistiche di utilizzo Vedete l'andamento Della scarica Wi-Fi versus 5G Vedete il 5G Va a scendere di più È un po' un Dottor Jack Il Mr. Hyde Se andate solamente in Wi-Fi Farete due giorni Con questo telefono Invece con il 5G Che ci succede più Sono arrivato a sera Giornata normalizzata Stress 30% Oggi particolarmente impegnativa 25% alle 22 e 11 Ma guardate con 5 ore e mezzo Di display Ma anche con un uso pesante Per esempio di Waze Vi faccio vedere Ho usato Waze Una mezz'oretta 34 minuti di GPS Solito Tanto Instagram La fotocamera Ho girato dei video Delle foto Insomma l'ho usato Veramente tanto La batteria è ok Ovviamente non c'è Come dice prima La ricarica Wireless Ma vi parlo del display Perché mi è piaciuto Particolarmente Vi faccio subito vedere Un Solito video Vabbè 4K in teoria Ma in pratica Andrà in Full HD Perché Il display È in Full HD Ma è Super AMOLED Molto bello Ma quello che mi ha stupito È la luminosità Veramente All'esterno Si vede Molto Molto Bene Grandissimo Angolo di visuale Buoni colori Buona la Reattività Vi faccio vedere Anche Netflix Magari invece del solito Sabrina Vi faccio vedere Qualcosa di più colorato Tanto vi dico subito Che i neri Li gestisce bene Netflix Che non ha problemi Ad andare anche lui In Full HD Riconosce tranquillamente Il telefono E devo dire Che già lo state vedendo Come gira È un telefono che gira Veramente molto molto bene Fluido Veloce Reattivo Display HDR10 Vi dicevo purtroppo Non è A 120Hz Non è nemmeno A 90Hz C'è la modalità Di lettura Però devo dire Che a me È un display Che è piaciuto E vi dicevo Meglio un 60Hz AMOLED Che un 120Hz IPS Unica cosa Da settare Magari nel software È il senso di luminosità Che quando andiamo Al buio A volte la bassa Troppo O un po' impazzisce Ma nulla di drammatico E dopo un paio di secondi Arriva alla luminosità Giusta Invece cosa non mi piace Il drawer di Poco Che Diamo che sia un po' più Miuizzato Rispetto al Poco F1 Ma è sempre diviso In cassetto Delle applicazioni Vedete E schermate Dove ovviamente Poi possiamo mettere Le applicazioni Se facciamo swipe A destra C'è la classica Schermata Google Home Ma questo cassetto Poi si può andare A dividere Vedete Per applicazioni Una divisione Spannometrica Che fa lui All'inizio Poi ovviamente Voi ve la potete Personalizzare E potete anche andare A scaricare Dell'icona E cambiarle Gestire le categorie Delle app Però non potete Ahimè Non avere Questo cassetto C'è tutte le app Nelle varie Home Vabbè poco male La cosa che invece Non mi fa impazzire È che questa Diciamo Gesture Home Su Va a volte Interferire Con la gesture Per andare Al multitasking O per tornare Alla home page C'è il tasto Volendo widget Per bloccarlo Ma c'è anche il doppio tap Per andare a bloccarlo E questa cosa mi piace Si può anche attivare Lo sblocco con il volto Si apre la pop up Ma avendo un sensore Di impronta digitale Che funziona Veramente bene Non vedo Perché usare Il volto Che è anche Bidimensionale Vi parlo della parte telefonica Vi dicevo che è un Dual sim Chiamo il Il 190 Tivo del via voce Il dial Allo stock Di google Quindi arriva Tranquillamente Lo spam Cioè non arriva lo spam Mi avvisano Se c'è dello stamp Il volume del via voce Devo dire Molto molto buono Ormai abbiamo capito Che ci arriva l'SMS Di toby Tutte le volte Che abbiamo Il 190 Ok La ricezione Anche il dual sim Gestito bene Con suonerie Differenziate Insomma Parte telefonica Che ci sta Anche dalla capsula Auricolare Si sente Abbastanza Bene Velocità Inutile che vi dica Che con l'865 È un telefono Veramente super Fulmino Noi possiamo usare Tutte le storie Instagram Che vogliamo Con tutti i filtri Che vogliamo Con tutto quello Che vogliamo Il filtro Il filtro Vecchia professoressa Di matematica Mi piace Sempre tanto E è un telefono Fluido Reattivo Veloce Guardate Riesce a essere Fluido Anche nelle storie Instagram Che di solito Instagram È proprio Laggoso Di suo Avete visto La camerina pop up Che si è alzata Con quell'effetto E anche con i led Stessi led Che poi vanno A illuminare Quando arriva una notifica Questo è twitter Questo è offerte Punto club Cosa c'è Un ipad pro A un buon prezzo Vabbè Buon feedback Anche del gestore Delle pagine Incredibile Anche il gestore Delle pagine Guardate quanto è Veloce Veramente punta Tutto sulla Velocità Questo telefono E già Già La seconda volta Che non mi va Il pubblica Nel gestore Delle pagine Veramente un Bug E allora La tastiera Dove la faccio vedere Vabbè Ve la faccio vedere Qua nelle storie Instagram Faccio una storia Stupidissima Velocissima E poi vado A scrivergli sopra E vi dico subito Una cosa Il feed Della Vibrazione Volevo essere Aptico Ma non ce l'ha fatta Il titolo che potevo dare A questo feed Della vibrazione Nel senso che è molto buono Bello Maschio Non ha la coda Non è zanzaroso Però non è Aptico Però è un feed Che mi è piaciuto Comunque prestazioni Veramente ottime Real racing Che si apre In 7 secondi Con la possibilità di Andare ad attivare Il turbo Videogiochi Con queste opzioni Anche per andare A modificare Cioè modificare Diciamo a non farci rompere Le scatole Con le notifiche Con le chiamate Quando giochiamo Ma è inutile che ve lo apra Vi ripeto Molto molto Veloce Parte Eh Parte che mi ha lasciato Un po' così Che è questa Ovvero La fotocamera Ve la apro Vi faccio vedere Le opzioni Slow motion Breve video Per le storie Instagram video Che possono essere fatti Addirittura Guardate in 8k Gli inutilissimi 8k Però bello il fatto Che può fare I 4k Anche a 60 frame per secondo Anche con la grandangolare E anche Con video continuo Guardate per esempio Io ho iniziato il video Qua sono con la grandangolare Ma posso andare Tranquillamente A zoomare E usare Tutte e tre Le camere Guardate Questa era la grandangolare Ma sempre a 4k A 60 frame per secondo Posso partire E sempre la posso Tornare Foto Le opzioni Sono le solite Una cosa Volevo far vedere Nei video Che mi è piaciuta Ed è la Funzionalità vlog Non ve l'ho mai fatta vedere Negli ultimi Poco Xiaomi Ma è una cosa carina Perché voi Fate Un pezzettino di video Da una parte Poi ne fate Uno dall'altra E poi magari Ne fate Uno Così E poi magari Ne fate anche Uno Che fa così E inquadra Quanti pezzi di video Dobbiamo fare Non mi ricordo Forse ne mancano Ancora due Però è una funzione Che vi tirerà fuori Adesso vedrete Guardate Tac Un video Molto carino Facendo 4 riprese E da postare Sui social Se siete a un evento Particolare Può essere Veramente Simpatico Adesso interrompo Ce ne sono vari Di questi effetti Possibilità di stabilizzare La La camera Poi possibilità di fare Le foto a 64 megapixel Perché di default Lui fa pixel binning Quindi va a unire 4 pixel in uno Per migliorare le foto Con poca luce Però non ce la fa Non ce la fa Possibilità del bokeh Ovviamente Modalità notte Panorama E modalità pro Dove si capisce Che le lenti effettive Sono 3 Wide Normale E Macro Ma andiamo a vedere Come vengono Le fotografie Perché ho fatto Veramente tante Foto con questo telefono Andiamo Negli album Della Album della fotocamera Dove ho fatto Gli scatti Partiamo con la casalinga Di Voghera 2.5 Ho fatto un sacco di prove Con un sacco di aspirapolveri Sullo svuotamento Delle aspirapolveri Però devo dire Che la camera frontale Ahimè È la camera Che scatta Un pochino Più così Vedete come Distorce anche Ai bordi Dell'immagine Questa invece È la camera Grandangolare Con tanta luce Bene Camera normale Con tanta luce Bene 5x Inizia a scricchiolare Perché interpola 10x Invece si vedono Proprio i pixel Le linee non sono Nette Bella Questa che è La fotocamera Macro A 5 megapixel Mi è piaciuta Questa è la fotocamera normale Che fa un bel effetto bokeh Comunque L'f è abbastanza basso Ma soprattutto I pixel grossi Fanno effetto bokeh Mi piace Invece non mi è piaciuto Lo scontorno Del ritratto Già il fatto che non sia Due per Va a fare un bokeh Un pochino più Diciamo finto Ma guardate qua I capelli Me li ha completamente Sbochizzati Mi ha preso La testa Come se avesse una pelata E li ha sfocati Insomma Bene Non benissimo Direi il bokeh Con poca luce Ma non pochissima luce Abbastanza Bene I video ve li faccio Vedere dopo Vi racconto dopo Dove sono stato Ma Vabbè Vi faccio vedere qua Due foto Giusto per Farvi assaggiare Una live Con una produzione Incredibile Alla quale sono stato Invitato E È un quizone Alla mic Buongiorno Anche il pulsante Per rispondere Chi c'è lì Sì è proprio lei Diletta Leotta Ma Torniamo Allora no Questo pezzo di video Scusate ve lo faccio vedere Perché Dovete sapere Io sono stonato Come una campana Emanuele Pacotto Mi ha chiesto Di fare un video Per una cosa simpatica Ecco Giuro che Non vi metterò L'audio originale Perché è inascoltabile Vabbè Passo indietro Foto con poca luce Ma veramente Poca poca luce Soffre Questa è la foto Diciamo Con la modalità notturna Ma questo è il punto E scatola Non siete niente E il flash Ovvio Illumina tantissimo Quasi al giorno Ma come vedete Appiattisce quasi tutto Per quanto riguarda il video Purtroppo ho dovuto tagliare Delle scene Non posso farvi vedere Il backstage Di questo quiz Perché fino a lunedì Quando ci sarà il live Seguitemi Ore 19 Sul canale Kia Poi Se state sulle storie Trovate tutti i vari link Con la Leotta Che condurrà Io e Vicky Piri A rispondere su domande Sulla Kia elettrica E vedete I video come Sono stabilizzati Ma porca miseria Il colore Il colore Maluccio E anche la camera anteriore Maluccio Insomma Torna con i piedi per terra E niente Fa foto Da un buon Medio di gamma Diciamo Con tanta luce Bene Con poca luce Maluccio E maluccio Lo zoom Sentiamo come si comporta Con Con l'audio Andiamo Alla mia solita playlist Delle cuffie Guardate Fulmineo Anche nel muoversi In spotify L'audio È buono Perché il volume È alto I bassi ci sono Ovvio che è mono Però devo dire Che è buono E poi super plauso A Eh sì Al jack Per le cuffie Che rimane Ho poco altro a dirvi Se non il fatto Che c'è la solita Applicazione Per la sicurezza La possibilità Di andare a Diciamo Cambiare i temi Ce ne sono anche Devo dire Di Di carini 499 Da comprare Sia Che siate Ce lo duriste La scheda tecnica Perché la scheda tecnica Comunque è buona È velocissimo Vi ho detto prima Veramente ottima batteria Bel display Non mi ha fatto impazzire L'usabilità Del cassetto Ma chi se ne frega Android lo potete Personalizzare come volete Potete mettere un altro launcher Potete mettervi tutte le icone Che volete qua Tutti i widget Che volete Sulle varie Schermate Quindi da questo punto di vista Sì è una cosa Che non mi piace Ma la potete Tranquillamente Personalizzare Mattoncino E le fotocamere Che sono In media Ma se si vuole Secondo me è un telefono Che andrà veloce per molto tempo Che sarà comunque supportato Perché la community Poco e Xiaomi Comunque supporta i telefoni Secondo me è perfetto Ha potenza da vendere Ha un prezzo giusto Ecco a 599 Non so A 499 Rimane un best Rispetto al Realme X50 Pro Vi dirò Magari farò un confronto Mannaggia Se avesse avuto una cam migliore Sarebbe stato il best buy Dei best buy assoluto Avrebbe diciamo Spodestato il Mi 9T Ma forse lo spodesta lo stesso Mi è piaciuto Qualche ma Ma per quel che costa Ci sta Un saluto da Andrea Galeazzi.com Che ha fatto anche la rima E in un periodo in cui Dov di gamma Tutti aumentano troppo di prezzo Lui ancora Ci sta dentro Ciao